E quando scoppiano le guerre, figurarsi questa, c'è sempre quella domanda, ma è possibile, ogni volta si cita l'anno, è possibile che nel 2022 si facciano ancora le guerre? La struttura delle cose, cioè delle aggregazioni umane, è soltanto l'essere umano. Detto in maniera più semplice, come se fosse un algoritmo, le nazioni sono composte soltanto ed esclusivamente da esseri umani, punto, nient'altro. Le nazioni, la comunità di quartiere, l'associazione calcistica, gli imperi, qualsiasi aggregazione umana, dentro di sé ha solo esseri umani. E quindi? E quindi come è possibile che si fa la guerra nel 2022 per la stessa ragione per cui nel vostro ufficio una fronda fa fuori un capo? Stessa ragione per cui durante una partita di calcetto c'è gente che si picchia. La conflittualità è semplicemente l'interazione principale degli esseri umani. E se le nazioni sono fatte soltanto di esseri umani, questo è. È miserabile? Sì, ma lo siamo.